Adesso il personaggio che vederò è... Baby Mario! Si vede che io non sono bravissimo a questo, ma ce la posso fare. E adesso partiamo! Qui c'è una parte segreta che nessuno aveva mai visto. No, 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 no! Sono caduto! Questa è una cosa per ricominciare. Come vedete sono uno schiacco. Però adesso non faccio bene. No, no, no! Grazie a tutti. Per portare questa macchina ho dovuto fare 150C trofeo stella. Qui non lo userò. Questo lo userò alla fine di tutti. Oh mamma, come vedete, non sono come i ragazzini che vanno con i YouTube che hanno dato 900 personaggi. Oh mamma, sono più strano che invece. Ma i dati non sono stati salvati. Sono messo un troppo tempo. Adesso cambio personaggio. E uso Baby Peach. E uso Baby Peach. È l'alla. Mi sono costato un motore. Ho scom'ignia. Guardate che scorciatoio faccio io, una bellissima scorciatoio faccio, ma sono rimasto dentro Veniamo diciamo con i реально cosi. Non è che sei non lo so, spiegli in poco. No, non lo so. No, non lo so. Ah, che guarda? Sì, guarda. Ah, non lo so. No, non lo so. Ma che voglia? Non lo so. Sì. Non lo so. Come vedete non sto battendo nessun fantasma. Ma dovrei sempre fare attenzione alle piante carnivore. Io adesso non ne sto battendo tantissima. Adesso è l'ultimo dirò. Oh mamma, ne ha quasi mangiato. 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 Non è in terroga. Oh mamma, ne ha quasi mangiato. Oh mamma, ne ha quasi mangiato. Non capisco E ecco finisci qui Mamma Ma finisci qui Non capisco